Droni russi colpiscono Kiev, consegnate all'Ucraina le bombe a grappolo americane, nessun compromesso, dice Zelensky, Lavrov, minaccia nucleare e stallo di guerra. Manfredonia in lutto, funerali per i fratelli morti annegati in una vasca di irrigazione, indagato per omicidio colposo, il proprietario del terreno. Al nord, violenti temporali provocano danni e disagio, al centro-sud si boccheggia e dopo Cerbero arriva Caronte, anticiclone che ci traghetterà oltre i 40 gradi. Prendersi cura dei nostri anziani, mappare quelli fragili e monitorarli periodicamente, città solidali contro l'isolamento e l'invito di Sant'Egidio al governo. Profeti di pace contro l'odio, debutta a Firenze il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, un sinodo di under 30 per coltivare la diplomazia dell'amicizia tra i popoli che si affacciano sul mare nostro. Buonasera, buonasera dal TG2000, è dunque stallo totale, stallo mortale nella guerra in Ucraina. Gli USA consegnano le bombe a grappolo a Kiev e la capitale ucraina viene bombardata nella notte dai droni russi. Il Cremlino esclude colloqui di pace e Zelensky esclude concessioni territoriali in cambio dell'ingresso nella Nato. Il punto con Luciano Piscaia. Un morto e quattro feriti è il bilancio di un attacco aereo russo lanciato nella notte su Kiev. La contraerea ucraina ha abbattuto una decina di droni, i cui detriti hanno provocato danni a diversi edifici. Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato all'interno di un condominio in fiamme, mentre due dei feriti, una ragazza di 19 e un giovane di 23 anni, sono stati colpiti da scheggi di vetro provocate dai droni abbattuti. È il terzo attacco in tre notti sulla capitale ucraina e secondo Kiev si sarebbe trattato di un attacco massiccio, con droni entrati nella capitale da diverse direzioni. Intanto un nuovo piano per aumentare l'invio di munizioni all'Ucraina è stato approvato dal Parlamento europeo con 505 voti a favore, 56 contrari e 21 astenuti. Il piano, che entrerà in vigore dopo la ratifica del Consiglio europeo, prevede la fornitura a Kiev di missili e di munizioni per l'artiglieria per 500 milioni di euro. Sarebbero già state consegnate, invece, le bombe a grappolo promesse all'Ucraina dagli Stati Uniti e saranno i vertici dell'esercito a decidere le aree in cui sarà possibile utilizzarle. Kiev riceverà gli F-16 nei tempi previsti. Ad affermarlo è stato il ministro degli esteri ucraino Kuleba, cui il suo omologo russo Lavrov ha risposto che per il Cremlino gli F-16 a Kiev rappresenteranno una minaccia nucleare perché Mosca non può ignorare, ha aggiunto, la capacità di questi aerei di trasportare testate nucleari. All'indomani del vertice NATO a Vilnius, mentre Volodymyr Zelensky esclude qualsiasi compromesso territoriale con Mosca sulla futura adesione di Kiev alla NATO, Lavrov smentisce anche che si possano tenere in questo mese colloqui ufficiali per la pace in Ucraina. Non può prevalere l'idea che non ci sia niente da fare, che non vi sia spazio per il dialogo creativo e la diplomazia che occorra accettare il proseguimento di combattimenti feroci. Così oggi il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Gallagher, a margine di un evento a Roma. Rita Salerno. Le parole e gesti pubblici di Papa Francesco sul conflitto in Ucraina non vanno interpretati come atti di vuoto pacifismo o espressioni di più desiderio perché non si rende giustizia all'intenzione del Santo Padre di invitare tutti ad essere tessitori di dialogo e artigiani creativi. Entra subito nel merito della sanguinosa guerra che da quasi un anno e mezzo sta devastando l'Europa dell'Est. Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario Vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, alla presentazione del nuovo numero della rivista di geopolitica Limes dal titolo Lezioni Ucraine. Profose anche di lezioni per l'Ucraina e per tutti noi, ossia di ciò che questa drammatica guerra dovrebbe far capire all'intera umanità per rendere possibile quel cambio di mentalità e di enteggiamento in grado di mettere fine a tutti i conflitti del mondo. Quella di Papa Francesco è dunque una coraggiosa profezia di pace, denuncia Monsignor Gallagher, che non è stata accolta ma anzi condannata con spirito fazioso. Da parte sua il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, ha messo in guardia sui veri obiettivi di questo conflitto che con il perdurare degli scontri armati si stanno perdendo di vista. La missione vaticana non è quella di trovare il bandolo di una matassa estremamente complessa ma è quello di innanzitutto dare un segnale che bisogna parlare di pace. Consiglio Supremo di Difesa oggi al Quirinale, appuntamento convocato per fare il punto sulla guerra in Ucraina ma forse anche occasione per un colloquio più largo tra il Presidente Mattarella e la Premier Meloni. Sentiamo Augusto Cantelmi. Non faccio dichiarazioni, non partecipo a prendere, abbiamo già querela e chiederemo il nostro risarcimento d'anni. A oggi non ho ancora ricevuto nessun avviso di garanzia, sono assolutamente tranquilla. Torna a difendersi il Ministro per il Turismo Sant'Anché e lo fa l'indomani delle parole del Presidente Consiglio Meloni che da una parte ha provato ad attenuare i toni contro la magistratura e dall'altra ha confermato le critiche, soprattutto sull'avviso di garanzia, critiche ribadite anche dal Ministro degli Esteri italiani. Che è un fatto politico che crea qualche verplessità che si dia un atto destinato a una persona prima a un giornale e poi a una persona. Questo è il fatto politico. Le opposizioni tornano all'attacco e criticano le parole di Meloni e ribadiscono la richiesta di dimissioni per Sant'Anché. E se vuole dare un segnale di responsabilità al Paese, di responsabilità politica, rimuove immediatamente la Ministra Sant'Anché che in Senato ha mentito agli italiani. Per l'Associazione Nazionale Magistrati non ci sarebbero ancora le condizioni per una mediazione. Silenzio invece ancora dal Colle che dovrebbe firmare il disegno di legge sulla riforma della giustizia. Mattarella incontra Meloni in occasione della riunione del Consiglio Supremo di Difesa. Sul tavolo i risultati del vertice nato di Vilnius ma spazio anche per il tema della giustizia. Uno sciopero dimezzato ma non per questo meno afflittivo per i viaggiatori. Quello del personale ferroviario di oggi è all'orizzonte. Ci sono nuovi disagi sabato per la protesta dei lavoratori di terra degli aeroporti. Fabio Bolzetta. Sciopero dei treni dimezzato per cercare di arginare i disagi. Si è concluso alle ore 15 lo stop nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt CGL, Filt CISL, Wiltrasporti, UGL Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confstal. Inizialmente di 24 ore. Ieri sera è arrivato il provvedimento del Ministero dei Trasporti che ha precettato lo sciopero riducendola a 12 ore dopo il nulla di fatto dell'incontro al MIT. Per il Ministro Matteo Salvini capisco e sostengo i diritti di migliaia di lavoratori del comparto ferroviario ma questa lotta sindacale non può lasciare a piedi milioni di lavoratori italiani. Contrari alla misura i sindacati che hanno chiesto interventi su manutenzione dei mezzi e turni. Un'adesione allo sciopero massiccia in Sicilia secondo la Filt CGL con il 90% dei treni cancellati dopo la fascia di garanzia è chiusa alle 9 del mattino e del 98% in Sardegna 70% in Puglia situazione tranquilla invece a Bologna alla stazione Termini lunghe code in biglietteria soprattutto di turisti stranieri. Siamo in fila in attesa a causa dello sciopero ci dice una cittadina statunitense di ritorno da Monopoli. Abbiamo fatto due ore di fila e ci è stato dato un nuovo biglietto e quel treno è stato cancellato si sfoga un gruppo in vacanza dall'Australia. Da dove venite? Avezzano, lei Bolzano. E per lo sciopero avete avuto problemi, difficoltà? No, nessuno. Sono venuta diretta da Bolzano e scesa qua. Tutto perfetto anche in orario. Sabato sciopero dei lavoratori del personale di terra aeroportuale. Chi può dunque parte scioperi permettendo ma magari prenota per un periodo di tempo più limitato. In questa estate infatti gli italiani devono destreggiarsi tra voglia di vacanze e aumenti a tappeto. Nicola Ferrante. In vacanza ad ogni costo chiuso il periodo della pandemia agli italiani è tornata una voglia matta di viaggiare. Nonostante il caro prezzi gli italiani vogliono andare in vacanza le diroffe negli anni scorsi non c'era più stata la richiesta di poter comprare il viaggio a rate. Quest'anno ci è stato nuovamente richiesta la possibilità di fare un finanziamento per comprare il viaggio. Un italiano su due andrà all'estero secondo le associazioni di categoria il Giappone è la meta più gettonata ma non tutti possono permetterselo 1900 euro infatti la spesa media a famiglia in crescita sì rispetto agli anni della pandemia ma non sufficiente per i viaggi intercontinentali a lungo raggio è allora meglio rimanere nella cara vecchia Italia per qualche giorno di relax. fa sempre da padrona ovviamente la Sardegna la Puglia che viene sempre molto richiesta quest'anno una richiesta abbastanza importante per la Toscana e per la Liguria e lì si vede invece le difficoltà si vedono appunto le famiglie in grande difficoltà. Trovando due masi prima siamo riusciti a trovare qualcosa che ci ha soddisfatto e il prezzo accettabile? No, quest'anno no motivo economico i voli costano troppo i traghetti costano troppo e cerchiamo di risparmiare dove è possibile ho una casa in campagna e andrò a passare qualche giorno lì. Lutto cittadino a Manfredonia in Puglia nel giorno dei funerali dei due fratellini annegati in una vasca di irrigazione ma restano ancora alcuni aspetti da chiarire in questa tragedia Beatrice Bossi Oggi nella campagna foggiana il caldo brucia come il dolore per la morte di Stefano e Daniel la procura ha iscritto nel registro degli indagati il nome del proprietario di questo terreno è accusato di omicidio colposo non avrebbe vigilato sullo stato della proprietà e sulla recinzione della vasca di irrigazione i bambini potrebbero aver approfittato di un buco nella rete secondo la procura per arrivare al bacino e poi morire affogati nella profondità delle sue acque i loro piccoli ferretri hanno fatto ingresso alla cattedrale di Manfredonia intorno alle 15.30 sono ritratti felici e sorridenti sulle foto sopra le bare bianche a salutarli per l'ultima volta qui c'è tutto il paese le autorità civili e militari della provincia di Foggia il questore e il sindaco che ha indetto per oggi lutto cittadino la mamma dei bambini entrando in cattedrale ha avuto un malore ed è stata accompagnata ad un presidio del 118 il rito funebre cominciato con quasi un'ora di ritardo è stato ufficiato dall'arcivescovo Moscone il dolore è troppo forte ha detto durante l'omelia la famiglia non può tornare a vivere in quel podere lanciando poi un appello alle istituzioni affinché trovino loro una nuova casa e mettano in pratica velocemente un piano di accoglienza per i migranti di queste zone è di un morto e di tre feriti di cui due bambini il bilancio del tamponamento di un'auto contro un tir sulla A4 nei pressi di Idolo siamo in provincia di Venezia l'auto con a bordo quattro persone tra cui appunto i due minori è finita contro un auto articolato che era fermo in una piazzola di sosta le cause dell'incidente sono al baglio della polizia stradale è foschissimo e angosciante lo spaccato che emerge da un'inchiesta a Firenze su violenze sessuali tra minorenni David Murgia è stata una mamma ad accorgersi dell'orrore che si sarebbe consumato la notte dello scorso capodanno in provincia di Firenze un festino a base di alcol e droga a cui hanno partecipato alcuni minori in cui sono state violentate i due dodicenni ed è appunto dalla denuncia di questa mamma che ha trovato alcune immagini del cellulare del figlio che durano all'incirca un minuto in cui si vedevano chiaramente due ragazzine fare sesso con un ragazzo poco più grande che sono scattate le indagini della polizia postale ora 24 minori 9 ragazzi 8 ragazze risultano indagati per violenza sessuale aggravata e produzione detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico le violenze sulle due dodicenni si sarebbero consumate abusando della loro condizione di inferiorità psichica dovuta alla giovanissima età e all'assunzione di sostanze alcoliche stupefacenti inoltre i minori che avrebbero assistito hanno documentato le violenze con foto e video divulgati poi su piattaforme di messaggistica istantanea con tanto di gruppo whatsapp dedicato al festino l'aumento che abbiamo constatato delle ipotesi di detenzione di divulgazione di materiale pedopornografico proprio da parte dei minorenni ci induce a pensare che spesso ci sia una forte sottovalutazione da parte dei ragazzi i quali probabilmente non sono del tutto consapevoli della rilevanza penale di queste condotte e anche delle conseguenze che questi comportamenti sono inevitabilmente destinati a produrre quello che emerge secondo la polizia postale è un quadro di assoluto svilimento delle persone offese degradate e considerate al pari di oggetti con cui soddisfare un mero bisogno fisico la corte di giustizia dell'unione europea ha respinto il ricorso di un giudice italiano sulla incompatibilità con il diritto europeo dell'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario il caso era stato sollevato dal giudice del lavoro di Padova a cui si era rivolta un'infermiera dell'ospedale universitario della stessa città sospesa dalle funzioni e dalla retribuzione per non aver rispettato l'obbligo di vaccinazione contro il covid-19 la Food and Drug Administration all'agenzia federale americana preposta al controllo di farmaci e alimenti ha approvato per la prima volta una pillola anticoncezionale da vendere senza prescrizione medica il farmaco chiamato Opil sarà probabilmente disponibile negli Stati Uniti all'inizio del 2024 si discute ancora dopo il via libera dell'Europarlamento alla legge sul ripristino della natura un punto di vista particolare è quello espresso dagli agricoltori sentiamo Giuseppe Caporaso perplessità nel governo e nel mondo dell'agricoltura sul via libera del Parlamento europeo la cosiddetta legge natura che introduce nuovi obblighi per il ripristino entro il 2030 della biodiversità sul 20% delle aree terrestre e marine a livello europeo ed entro il 2050 su tutte le aree necessarie un provvedimento che ha suscitato frizioni e divisioni nell'Aula di Strasburgo tuttavia alla fine sono state introdotte flessibilità ed esenzioni il Parlamento ha infatti aggiunto anche la possibilità di rinviare gli obiettivi nel caso di circostanze forti dubbi comunque espressi dal Ministro delle Politiche Agricole Francesco Lollobrigida dobbiamo tener conto dice di cosa reca danno e non raggiunge gli obiettivi la sostenibilità è un obiettivo ma sottolinea il Ministro Lollobrigida deve viaggiare in parallelo alla sostenibilità economica e avvantaggiare i primi ambientalisti che sono i nostri agricoltori pescatori e allevatori la legge cerca di imporre agli Stati traguardi vincolanti per il ripristino delle aree terrestre e marine danneggiate dall'inquinamento e dallo sfruttamento intensivo secondo gli uffici europei lo Stato dei cosiddetti habitat naturali del vecchio continente cattivo o mediocre e per questo si chiede un intervento in due fasi entro il 2030 e poi il 2050 sui fiumi i paesi dovranno individuare le barriere fluviali da rimuovere per contribuire ad avere 20.000 km di fiume a flusso libero entro il 2030 c'è anche un bambino morto in mare insieme ai 50 migranti soccorsi dalla nave d'attilo della Guardia Costiera e portati a Reggio Calabria Cesare Cavoni Ancora sbarchi e ancora morte sulla rotta del Mediterraneo centrale dall'inizio del 2023 8 morti al giorno tra stanotte e stamattina a Lampedusa sono approdati 250 migranti a bordo di 6 imbarcazioni e sempre in mattinata 50 migranti sono stati soccorsi in mare e condotti nel porto di Reggio Calabria a bordo della nave d'attilo della Guardia Costiera ma uno non ce l'ha fatta si tratta di un bimbo di 4 anni forse di nazionalità nigeriana il suo corpo è stato recuperato a largo di Lampedusa dove si è verificato il naufragio dell'imbarcazione di fortuna a bordo della quale il piccolo viaggiava assieme ad altri migranti tra cui la madre per la quale è stata disposta all'assistenza psicologica non si conoscono al momento altri dettagli sulle cause del decesso ma solo che la donna e il bambino facevano parte del gruppo di migranti non provenienti da Lampedusa ma soccorsi in mare la nave d'attilo arrivata oggi a Reggio aveva 811 migranti a bordo che saranno accolti nelle strutture locali per poi essere trasferiti in altri centri di accoglienza secondo il riparto previsto dal Ministero dell'Interno intanto la Ocean Viking è in stato di fermo nel porto di Civitavecchia per un periodo indefinito ad annunciarlo è l'assesso ONG che l'11 luglio al suo arrivo al porto assegnato dalle autorità italiane per lo sbarco di 57 migranti è stata sottoposta a un'ispezione di controllo dello Stato di approdo dieci agenti di polizia penitenziaria in servizio al carcere in Reggio Emilia sono accusati di tortura lesioni e falso ideologico in atto pubblico il fatto si sarebbe verificato il 3 aprile scorso i danni di un detenuto di origini tunisine che aveva denunciato di essere stato pestato da una ventina di agenti per loro è scattata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio AFA opprimente al centro sud violenti nubi fragili al nord e la tutt'altro che invidiabile situazione meteo della penisola Letizia Davoli sta per finire l'ondata di maltempo che ha attraversato il nord Italia fortissimi temporali accompagnati da fulmini e grandine hanno colpito nella notte tutte le regioni dal Piemonte al Friuli investendo nel pomeriggio anche l'Emilia Romagna ingenti danni sull'appennino modenese e a due mesi dall'alluvione su Forlì si è nuovamente abbattuto un ubifragio con raffiche di vento che hanno raggiunto e superato i 90 km orari provocando la caduta di diversi alberi in vari punti della città alberi caduti anche in altre città del Veneto particolarmente colpita la Lombardia come si vede dalle immagini del satellite Meteosat centinaia agli interventi dei vigili del fuoco per liberare strade e veicoli bloccata la strada per l'aeroporto di Malpensa a Villanova Sant'Antonio in provincia di Venezia il vento ha distrutto una quercia secolare dichiarata monumento nazionale e ha battuto numerosi stand di una fiera temporali e danni anche a Portogruaro è un disastro una cosa che non avevo mai visto prima ho cercato di andare su un terassino per sistemare i fiori ma non è stato possibile sono rientrato subito vento grandine pioggia intanto nel resto d'Italia continua a imperversare Cerbero la prima un dato di caldo di quest'estate 2023 bollino rosso per le prossime 72 ore con temperature massime previste superiore ai 38 gradi su Sardegna Puglia Basilicata Calabria e Sicilia Bologna Firenze Roma tra le città più calde il satellite Copernicus 3 della costellazione europea di osservazione della terra mostre sul riscaldamento del suolo che con l'irraggiamento di questi giorni e le temperature sopra i 30 gradi ha raggiunto il valore rosso sulla mappa di 47 gradi il weekend secondo le previsioni si preannuncia soleggiato e molto caldo ovunque Cerbero lascerà il passo a Caronte la seconda ondata di caldo africano estiva con le temperature che in molte località del centro sud arriveranno a 40 gradi e tra coloro che maggiormente patiscono il caldo soffocante nelle nostre città ci sono sicuramente gli anziani su di loro ha voluto richiamare l'attenzione la comunità di Sant'Egidio Antonella Mazza Teruel Anche in sintonia con la giornata degli anziani del 23 luglio che Papa Francesco ha aperto per tutta la Chiesa oggi abbiamo sollevato un problema come comunità di Sant'Egidio all'Italia che ci sia una grande campagna di solidarietà con gli anziani per proteggere la vita degli anziani In Europa siamo il paese più vecchio sia con il maggior numero di anziani nel mondo siamo un secondo dopo il Giappone un primato che comporta un impegno per ciascuno soprattutto con l'arrivo dell'estate perché il caldo e la solitudine insieme diventano una miscela esplosiva a sostenerlo la comunità di Sant'Egidio che si è rivolta innanzitutto al governo perché al più presto scrive i decreti attuativi della legge delega sugli anziani dello scorso 31 marzo positivo poi che il nuovo decreto flussi di ingresso regolare preveda la figura del badante perché è diventata difficilissima la ricerca di questo tipo di assistenza mentre è carente la carta acquisti dedicata a te appena emanata dall'esecutivo rivolta solo ai nuclei familiari di almeno tre persone ci sono appunto 9 milioni di anziani soli o in coppia ecco quindi chiederemmo che questa carta dedicata a te tenesse conto degli anziani soli il 65% degli anziani infatti è solo in coppia in situazione di fragilità e la Sant'Egidio si rivolge allora all'associazione Comuni Italiani per una mappatura come avviene per i rischi idrogeologici per monitorare e localizzare gli anziani fragili in modo da predisporre interventi tempestivi in caso di emergenza ma poi c'è la quotidianità in cui l'intera società può attivarsi un volantino a firma della Sant'Egidio contenente 10 consigli utili per fare attenzione agli anziani vicini di casa o del quartiere verrà distribuito nelle parrocchie nei supermercati alle poste in altri luoghi perché ognuno può fare la differenza per una città solidale contro l'isolamento di chi è più fragile non sono ancora state trovate tracce dei due alpinisti piemontesi dispersi da lunedì sera sul massiccio del Monte Bianco nelle ultime ore i soccorritori sono riusciti a sorvolare in elicottero la zona da dove i due avevano lanciato l'allarme spiegando di non riuscire a proseguire a causa delle difficili condizioni del terreno la scarsa visibilità e il forte vento in quota ostacolano le operazioni del soccorso l'antitrust ha chiuso l'istruttoria relativa ad alcune clausole dell'accordo tra Tim e Dazon sulla trasmissione delle partite del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024 l'autorità ha sanzionato Tim per oltre 760 mila euro e Dazon per oltre 7 milioni e 240 mila euro in base ai ricavi derivanti alle due società dalla commercializzazione dei diritti televisivi per la stagione 2021-2022 si è insediato a Firenze il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo un'iniziativa fortemente voluta dalla Chiesa Italiana Marino Galdiero è fatta a un anno di distanza dal suo lancio durante il raduno dei Vescovi e dei Sindaci del vaccino del Mediterraneo si è insediato a Firenze il Consiglio dei Giovani di quel mare che spesso ricordiamo per le tragedie che coinvolgono i migranti questa volta noi 40 ragazzi e ragazze provenienti da 18 paesi che si affacciano sul mare Nostrum rappresentano la possibilità di un mondo diverso infatti si incontrano per condividere un ideale di convivenza tra i popoli fondato sulla fraternità il Consiglio non è un luogo che si limita a pensare a progettare è già un luogo di incontro perché sono giovani che provengono da diversi paesi e quindi ciò che è anzitutto da fare è diffondere questi germi di unità di concordia di armonia dentro i territori e poi i contrasti devono sempre dal contrapporre il mio al suo all'altrui punto di riferimento imprescindibile dell'iniziativa è il venerabile Giorgio Lapira il sindaco santo come era soprannominato per il suo impegno per la pace ai più poveri la proposta di un consiglio dei giovani del Mediterraneo è partita dalla Chiesa Italiana ed ha tra i suoi obiettivi la promozione dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso ma anche coltivare quel germe di speranza che ogni giovane rappresenta giusto ieri parlavamo con un ragazzo con un giovane della Tunisia io appunto sono agrigentina ci dicevamo banalmente quanto siamo vicini geograficamente e quanto difficile è raggiungerci attraversare appunto il mare da costa a costa quindi puoi immaginare quanto complicato può essere argomentare questi temi e quante speranze noi giovani abbiamo nell'incrementare forme regolari magari di migrazione o nell'agevolare lo spostamento di chi per necessità appunto deve muoversi facciamo una piccola pausa ci vediamo tra poco la corte d'assise di Pisa ha condannato in primo grado per omicidio volontario in concorso gli ex capolari della Folgore Alessandro Panella a 26 anni e Luigi Zabara a 18 anni per la morte di Emanuele Sceri il parà di leva ha trovato cadavere nella caserma Gamera nel 1999 la verità finalmente dopo 23 anni non me l'aspettavo ha commentato il fratello del militare deceduto e con questo è tutto vi lascio al meteo e alla diretta della messa prossima edizione del nostro TG2000 alle 20.30 grazie e arrivederci grazie